Decine di lavoratori dell'ex isochimiche invadono la sede del Partito Democratico per chiedere risposte sul mancato riconoscimento del prepensionamento. Gli operai della fabbrica di Borgo Ferrovia, la maggior parte dei quali affetti da patologie correlate all'amianto, da mesi chiedono che lo Stato conceda il diritto alla previdenza per gli affetti da malattia professionale. Fino ad ora tutte le proposte di legge arrivate in Parlamento sono state bocciate, ma la lotta degli operai non si ferma. Ci abbiamo chiesto una cosa, praticamente di farsi carico come partito e di arrivare al Partito Nazionale a Roma, questo l'hanno garantito con una lettera che stessi oggi scriveranno al Presidente del Consiglio Renzi, perché vogliamo capire perché è tutto fermo per quanto riguarda il prepensionamento. Voci che ci arrivano, dice che c'è qualche problema proprio nella Commissione Lavoro alla Camera, quindi vogliamo capire se è vero o non è vero, ma a nostro avviso sicuramente sarà così, perché non è possibile, sono passati altri tre mesi da quando siamo stati alla Commissione, anzi quattro, da quando siamo stati alla Commissione Lavoro alla Camera, ci dicevano che era tutto a posto, avevano preso a cuore la situazione nell'emendamento, poi fatto, poi ritirato, quindi ci siamo accorti pure che i parlamentari nostri, l'impossibilità dei parlamentari, non lo so, quindi ci siamo rivolti direttamente al Partito per capire come sta sta situazione, perché ogni giorno che passa sta diventando drammatica, drammatica per chi non lavora, a parte le patologie che stanno avanzando, per chi non lavora e quindi senza lavoro e senza prepensionamento, per chi lavora sta avendo problemi e non è più tollerabile, l'abbiamo detto anche al questore l'altro giorno, perché ci sta qualcuno che sta all'esasperazione, quindi adesso basta questa storia, perché noi siamo praticamente lavoratori fatti cadere ammalati allo Stato italiano, abbiamo patologie, detto dai medici, dalla scienza, incurabili, ma come è possibile? Una nazione civile che persone con malattie incurabili sono costretti ancora a lavorare, a peggiorare la situazione sui posti di lavoro, è assurdo, a questo punto basta, perché i lavoratori proprio sanno l'esasperazione, prima che succeda qualcosa di eclatante e di grave. Gli operai hanno incontrato i vertici del Partito Democratico Irpino e hanno chiesto al segretario De Blasio un impegno concreto per investire Roma del problema. L'impegno che ci siamo assunti è quello di, nel giro di qualche ora, di investire la segreteria nazionale del nostro partito, lo vogliamo fare alla luce del sole, perciò lo stiamo dicendo, per cui anche noi, non più di loro assolutamente, ma sicuramente quanto loro siamo interessati a capire perché non riusciamo a creare un luogo nel quale, un luogo politico, istituzionale, nel quale questa vicenda venga rappresentata in maniera appropriata, giusta. Questa è stata una delle prime richieste avanzate in uno dei primi interventi questa mattina, cioè quella di chiederci di promuovere un'occasione in cui questi lavoratori, i rappresentanti di questi lavoratori possano, con chi a Roma decide, confrontarsi e capire perché la situazione finora è così risultata complicata. Grazie. 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 Grazie.